buongiorno facciamo l'altro video di pallone sono Anthony conca eccomi qua il video di pallone sta per iniziale palleggio palleggio il video è una spettacolarezza e potrebbe funzionare per i prossimi video di pallone come al solito si uscite le galline sento un bellissimo profumo di frittata sento un bellissimo profumo di frittata è ora di mangiare mezzogiorno si fa il video di pallone ragazzi eccomi di solito Anthony conca i palleggi con la sdragagnola ma le sdragagnole sono quelle bellissime sdragagnole che le chiamo appunto di digi giusti quindi divertiamoci facciamo il video di pallone palleggio guarda là quando mi esce male mi esce male e basta oh il gatto il gatto sottacca pallone fristalla stuietto che merda ragazzi buongiorno eccomi sento un odore di frittata un buonissimo odore di frittata palleggio palleggio oi a dove vai bello ho fame e vorrei mangiare si sente ottimo odore di frittata palleggio palleggio ma da là non c'è un faccio ehu pallagami oi è pronto e voi venga mangiare aspetta ma faccio questo video e vengo ragazzi il video di pallone di solito è bellissimo che cazzo tu fumi stu treno la merda palleggio che cazzo te cale sto cale di merda guarda là oh la la fuma la la li devi fermare a merda sul pallone oh no la merda sul pallone un po' di merda non fa male circa nessuno ragazzi i dubbi colorati vi vedete il stifone ragazzi buongiorno prima di tutto facciamo i video di pallone straga e gnola oh cazzo l'ho fermato con la potenza superiore palleggio palleggio ma da là ma perchè mi escono le cose malamente facciamo i video di pallone palleggio piesta ha già fanno lavoro le cose belle da vedere sono belle da vedere ovunque guardate palleggio palleggio nuca tirato sulla cagnola a 180 ora ragazzi non è finita qui questo pallone è sporco di merda 3 palleggio 1 12 3 3 4 4 5 6 4 vieni, vieni Bricida vieni Bricida, vieni da me ce la chiamano a straganiola a 180 all'ora avete visto che è rimbalzamento? vogliamo provarci di nuovo? forse stavolta con la più fortuna di quella di prima chiamano a straganiola a 180 all'ora ce la chiamano a straganiola a 180 all'ora ce la chiamano a straganiola a 180 all'ora ce la chiamano a straganiola a straganiola a 180 all'ora scusatemi a straganiola devi vai a chiamare a quel buffoncello di patutu quel buffoncello di patutu addio che ha combinato mamma mia e chi è? escerò in persona dove ho il pallone? se ne ho sotto la macchina come al solito di solito che ti sa che non ti vedo? eh? pallone ma che vuoi fare? lo scemo con me? lo scemo con me non lo fai pallone? lo scemo con me non lo fai? eh lo scemo con me non lo fai pallone ma ne ho già chiamato a biglio eccomi qua? eccomi qua palliccio straganiola oh c'è là magico che ha giù combinato? che straganiola potente è una super straganiola la videatura della telecamera? penso proprio di sì palliccio bravo bravo pallone adesso però scusatemi vado a mangiare scusatemi per i farfalla sarò che mi danza o pazzo c'è una ira la sarò farfalla di merda grazie grazie adesso è ora di pranzo e si va a mangiare di solito proprio adesso si va a mangiare eccomi